Buongiorno bambini, allora oggi per italiano affrontiamo l'argomento del riassunto. Avevamo già cominciato quando eravamo a scuola a parlarne facendo alcune attività, però adesso dobbiamo un po' tirare le somme su alcuni aspetti e cercare di sintetizzare le informazioni che già comunque avevamo parzialmente affrontato. Allora, vediamo qual è il percorso migliore per farlo bene. Allora, prima di tutto, la cosa fondamentale è leggere bene, con attenzione, tutto il testo. Cercare di capirlo. Per fare questo bisogna cercare le parole che non si conoscono sul dizionario. Ora, il dizionario noi non ce l'avevamo a scuola, però sicuramente a casa potreste averne qualche d'uno. Quando c'è qualche parola che non conoscete, voi aprite il vostro dizionario, cercate in ordine alfabetico le parole, la prima letterina, poi la seconda, poi la terza, finché non trovate la parola. E di fianco c'è la sua definizione. E dovete cercare di aumentare sempre più il vostro vocabolario, quindi il numero di parole che conoscete. Se non avete dubbi, comunque potete sempre chiedere al vostro papà e alla vostra mamma. Allora, attenzione. Quindi bisogna comprendere. comprendere vuol dire capire e individuare le informazioni essenziali. Allora, c'è un mito, no? Nei giornalisti americani, quando dovevano scrivere un pezzo su un giornale, dovevano sempre toccare le famose 5 W. In inglese, e qui facciamo un collegamento con l'inglese, ci sono 5 parole che iniziano con la W, che sono who, che vuol dire chi, what, che vuol dire cosa, when, che vuol dire quando, where, che vuol dire dove e why, perché. Allora, vedete, di chi stiamo parlando? Che cosa accade? Quando questa cosa accade? E dove? E infine perché è accaduta? Questi sono i 5 punti che dobbiamo sempre trovare in un racconto o in una storia. Allora, vediamo in italiano. Chi? Chi sono i personaggi della storia? Che cosa? Qual è l'argomento? Di che cosa stiamo parlando? Dove? Dove vengono i fatti? Quando vengono i fatti? In quale periodo? in quale momento storico? Perché avvengono? Quali sono i motivi che spingono all'azione? Quali sono le cause? E come? Come si svolgono i fatti? Dobbiamo sempre analizzare. Un passo per volta, lentamente, senza problemi. A questo punto dobbiamo dividere il testo in sequenze. Allora, che cos'è una sequenza? Un'unità narrativa che espone un momento in sé compiuto della storia. Cosa vuol dire questo? È una parte della storia che inizia e finisce. Per esempio, potrebbe essere in una fiaba il momento in cui il personaggio principale incontra il re o la regina che gli danno un compito, un'avventura da iniziare. Quella può essere, per esempio, una sequenza. Ecco, si ha una sequenza ogni volta che avviene un cambiamento significativo. L'insieme delle sequenze sviluppa la trama, la trama della storia. Ecco, questi sono i... come possono avvenire questi cambiamenti? Allora, può esserci un cambiamento di tempo, per esempio, un salto di tempo. Il giorno seguente, oppure dopo tanti anni. Vi ricordate, per esempio, non so, la bella addormentata nel bosco, quando tutti si addormentano e poi dopo cento anni arriva il principe per poterla svegliare. Quello sicuramente è un cambiamento. Oppure può cambiare il luogo. Il luogo, per esempio, Biancaneve prima viveva nel suo castello e poi dopo va a vivere nella casa dei sette nani. Personaggio. Entra o esce? Per esempio, non so, Cenerentola. C'è tutto il racconto di quando è maltrattata dalle sorellastre e poi arriva la fata. Oppure un cambiamento di dialogo. Parlano alcune persone e poi ne parlano delle altre. Ci può essere anche un momento in cui in un racconto c'è una riflessione. Cioè, una riflessione su ciò che sta avvenendo. Un pensiero. E alla fine può essere anche un cambiamento perché si descrive una situazione particolare. Per esempio, non so, Hansel e Gretel, quando c'è la descrizione, per esempio, della casetta tutta fatta di dolciumi. Allora, a questo punto bisogna lavorare sulle sequenze. Allora, abbiamo il nostro sottolineatore, la nostra matita colorata, possiamo usare quello, eh? e dare un titolo a ogni sequenza. Inizio, per esempio, oppure il momento in cui si contra il drago, e così via. Sottolineare le parti principali di ogni sequenza. Poi, scrivere con parole semplici e chiare i fatti principali di ogni sequenza. E alla fine cosa bisogna fare? Bisogna unire. Unire quanto scritto utilizzando il titolo e quanto sottolineato con parole legame. Poi, in seguito, tuttavia, ce ne sono... Questo è un esempio, però, non so, potrebbero essere infatti, così... Insomma, ce ne sono tantissime di queste parole, eh? Cerchiamo di non usare sempre le stesse, sennò queste ripetizioni poi possono dare fastidio. Scrittura. Allora, attenzione, qui una cosa importante. Scrivere in terza persona. L'autore afferma che, oppure, nella storia avvenne che il personaggio principale affronta un'avventura incredibile. Trasformare i discorsi diretti in indiretti. Questo l'abbiamo trovato, no? Per esempio, il principe disse Ti libererò, principessa. Discorso diretto. Il principe affermò che avrebbe liberato la principessa. Discorso indiretto. Usare un solo tempo verbale. Diciamo che questo, tendenzialmente, si può abbastanza fare, però non è semplice sempre farlo. Diciamo che, se ambientata nel passato, si possono usare varie forme di passato. Però, adesso, cerchiamo di usarne uno solo. Evitare giudizi personali. Il testo deve essere oggettivo. Non posso metterci qualcosa di mio, sennò si allunga, eh? Rileggere e eliminare le ripetizioni. Quello che vi ho detto. Come si fa a eliminare le ripetizioni? Si guarda sul vocabolario e si cercano i sinonimi. Di solito, nei vocabolari, ci sono sempre i sinonimi, cioè parole che hanno lo stesso sinfianato, ma che sono diverse, in maniera che non si ripetono. Correggere gli errori ortografici e grammaticali. E lì, il nostro vocabolario ci è sempre d'aiuto. E se non c'è, c'è sempre mamma e papà. Allora, riassumiamo. Allora, leggere attentamente. Prima cosa. Seconda cosa, comprendere il contenuto del testo. E bisogna capire quello che si sta leggendo, eh? Questo è fondamentale. Dividere il testo in sequenze. Come abbiamo detto. Dare a ogni sequenza un titolo. Fare per ogni sequenza una frase. Quello che dicevamo appunto di usare frasi semplici, eh? Unire le frasi scritte con parole e legami e rileggere tutto, tutte insieme. Togliere eventuali ripetizioni. Trasformare eventuali testi diretti in testi indiretti. E usare solo la terza persona. Allora, attenzione. Adesso noi abbiamo il nostro quaderno dei riassunti. E qui, per esempio, una bella storia che abbiamo visto. È a pagina 10. Qui parla in particolare delle sequenze descrittive. Nel riassunto della vicenda di un racconto non sono necessarie le sequenze descrittive. Cosa vuol dire? Quelle parti in cui vengono descritti oggetti, persone, personaggi. Quindi, cosa vuol dire questo? Che, per esempio, per esempio, leggi più volte il testo per comprendere bene la trama. Qui voi dovete leggere Sigfriddo e il drago Sigfriddo e il fabbro reggin giunsero nella landa di Nita. Ai loro occhi si presentò uno spettacolo sconfortante. La landa era una terra cupa ed isolata, dove si scorgevano solo rocce e sassi e un terreno arido e polveroso. Vedete, questa, per esempio, è una sequenza descrittiva. Viene descritta la landa di Nita. Allora, questa parte può essere, in un riassunto, può essere tralasciata. Allora, andando avanti, qua il racconto prosegue, dura due pagine, la pagina 10 e la pagina 11 del nostro libro dei riassunti. Alla fine, cosa dovete fare? Dovete segnare con parentesi rosse le parti che descrivono il luogo dove sono giunti Sigfriddo e Reggin. L'aspetto del drago. La buca che ha scavato Sigfriddo. L'arrivo del drago. Le reazioni del drago dopo che è stato ferito a morte. Dopo aver individuato le sequenze descrittive che devono essere eliminate, rileggi il testo. Capisci comunque la trama? Allora, se avete tolto queste sequenze descrittive e riuscite a capire la trama, allora vuol dire che avete fatto una bella sintesi, un bel riassunto di questo racconto. E poi dopo potete inviarmelo. Ora vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao! Ciao!